gentili telespettatori buona giornata spiagge scontate per la concorrenza dell'albania siamo a milano marittima e si parla di un qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo raccontato fino a qui si parla di ombrelloni lettini 150 euro 80 euro 300 euro 600 euro al giorno il gazebo la tenda in spiaggia due giorni la famiglia svizzera che spende 1200 euro per per il gazebo in spiaggia e poi ti risponde i giornalisti ma non c'è sembrato caro assolutamente come dire cavolina abbiamo anche un bel prezzo insomma è anche economico se 600 euro al giorno 600 euro per un gazebo una tenda in spiaggia più alta della pensione di tante persone ma qui non è che scendiamo nell'invidia nell'invidia è solo una fotografia di quella che è la società oggi la società capitalista ti porta a questo c'è la famiglia che ti dice non mi sembra caro 600 euro al giorno e poi c'è gente che vive tutto il mese con una pensione che è più bassa di una tenda al giorno in qualche spiaggia italiana è una semplice fotografia non è un invidia o chissà quale rancore verso chi ha i soldi ci mancherebbe altro anzi chi ce li ha se li goda qui parliamo delle spiagge a 10 euro al giorno siamo a milano marittima spiagge scontate per la concorrenza dell'albania la riviera milano marittima la riviera fondata dai milanesi lo storico luogo di vacanza della borghesia meneghina nel 1907 l'accessione del comune di cervia di una vasta area da riqualificare oggi meno famiglie e più ragazzi attirati dalla movida beh diciamo che la riviera romagnola e poi la parte più in alto verso milano marittima era sempre stata negli anni 80 dagli anni 80 agli anni 90 la riviera delle vacanze dei ragazzi e ragazze poi era diventata anche delle famiglie adesso forse torna per i ragazzi insomma voi sapete che ve l'ho raccontato anch'io ho fatto una decina di giorni dalle parti di rimini perché volevo portare i miei figli a vedere quel mare che avevo vissuto anch'io da ragazzo negli anni 80 e allora ho voluto portare anche loro i miei figli una decina di giorni a rimini per vedere com'è il turismo rimini no la spiaggia infinita di ombrelloni ombrelloni un albergo dopo l'altro la passeggiatina la sera fuori dall'albergo insomma volevo ricreare un po un ritorno al passato ecco i prezzi comunque nella riviera romagnola rimangono abbastanza fattibili e no insomma io ho visto nell'albergo dove ero che era un classico tre stelle di quelle zone erano quasi tutti stranieri mi sembrava di essere all'estero erano quasi tutti stranieri ma stranieri coi soldi insomma avevano tutti macchinoni da 50 mila euro in su nell'albergo di fronte dall'altra parte della strada scendo con mio figlio c'era uno che stava partendo con una ferrari targata germania insomma non sembrava di essere a rimini ma sembrava di essere quasi a monte carlo per le macchine che c'erano e gli stranieri comunque ombrellino ombrellone se lo vuoi in prima fila 25 euro se lo vuoi dalla terza dalla quarta fila in poi 20 euro fattibile insomma o perlomeno ci siamo abituati a dei prezzi così alti a sentire in giro per ombrelloni e sdraio mentre a milano marittima per la concorrenza estera allora si scendono si scende con i prezzi e a questo punto oggi ci sono come vi dicevo meno famiglie e più ragazzini attratti dal ricco programma del divertimento notturno ecco dove adesso in spiaggia si paga anche 10 euro per l'ombrellone l'esdraio allora i ragazzi di oggi i ragazzi di oggi vanno in vacanza come parliamo di ragazzi ragazze comuni vanno in vacanza o coi soldi dei genitori o con quello dei loro stipendi un ragazzo oggi a meno che non sia come si dice figlio di papà con la fabbrichetta o con o con in o figli magari di professionisti danarosi o oggi i giovani il giovane medio italiano è quello che ha finito gli studi o ha finito le superiori o ha finito l'università e viene assunto a 1250 euro lordi al mese quindi che cosa volete che si possa permettere un ragazzo o una ragazza a 1250 euro lordi al mese magari se vive ancora coi genitori allora si può mettere da parte i soldi andare in vacanza dove vuole più o meno ma se uno di questi ragazzi e ragazze vive da solo già è già è un miracolo se riesce andare in vacanza da qualche parte poi quindi la differenza tra il giovane che vive da solo il giovane che vive in famiglia oppure la vacanza gliela pagano i genitori ma se gliela pagano i genitori non è che si possa chissà andare dove perché i genitori magari sono persone che prendono 1437 euro lordi al mese quindi dove dove vanno oggi gli italiani io vi ho detto che a rimini sembrava di essere all'estero ed era luglio è o devi andare quando gli italiani non lavorano no 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 non è inutile pensare che non è vero non è vero gli italiani sì che possono andare in vacanza sono sempre di meno gli italiani che vanno in vacanza perché il paese è formato da un 30 per cento di lavoratori poveri e un altro 30 per cento di lavoratori quasi poveri quindi è un è un paese che ormai è diventato questo come i paesi in via di sviluppo pertanto sono gli stranieri europei che vengono in vacanza in italia perché i prezzi gli sembrano tutto sommato normali ma il fatto è che i loro stipendi sono il triplo di quegli italiani e allora se uno ti prende 3.000 euro o 3.500 e l'altro marito moglie prende altrettanto allora l'ombrellone a 25 euro non ti spaventa e così a milano marittima i prezzi scendono proprio per permettere anche ai giovani ai giovani di poter farsi la settimana come negli anni 80 ma devi mettere probabilmente i prezzi quasi come negli anni 80 almeno per gli ombrelloni e l'esdraio per alberghi ristoranti sotto una certa cifra non si può più scendere grazie a tutti e arrivederci a presto